Perciò radio il maestro Pupiavati, oggi abbiamo assistito all'anteprima qui a Boronia del suo film di Papa Giovanna, una storia di memoria totale, totalizzante fra un padre e una figlia. Fortunatamente nella prima parte delle premesse si basa sulle mie vicende private, sulla qualità del rapporto che ho avuto con i miei figli, che era iperprotettivo, poi fortunatamente le mie vicende private escludono l'omicidio, i miei figli non hanno frequentato, hanno è stato totalmente simulato, immaginato, mi sono trovato veramente a soffrire immaginando quello che poteva accadere fra un padre e una figlia che ha commesso un gesto così inconsulto. Grande successo di pubblico a Venezia, uno dei quattro film italiani in programma, la critica com'è stata nei suoi confronti? Ci sono state delle critiche che l'hanno infassita? C'è qualcuno a cui il film è piaciuto meno, perché non è che c'è stato all'unanimità, come non succede quasi mai, il bilancio è estremamente comunque positivo anche su di profilo critico. Ha raccontato questo film a Bologna, per metà Bologna reale, per metà ricostruita nei sud in città di Roma, Bologna medaglia d'oro della resistenza, ma dei partigiani si fa menzione soltanto nella scena della fucilazione sommaria, questa è una semplice descrizione di fatti o in qualche modo un giudizio sulle vicende? No, io penso che il cinema che si è occupato con attenzione, competenza, approfondendo queste tematiche, ci si è già stato, ci sono stati film importanti che hanno raccontato quegli eventi dolorosissimi, terribili e quindi mi sembrava, la vicenda che volevo raccontare io era una storia di un padre e una figlia, non era la storia della compagnia di Salò, quindi evitando assolutamente quelle che potevano essere le provocazioni, le polemiche, le cose di queste ore, di questi giorni che mi sembrano tutte inopportuni e poi un po' stantia, comunque è evidente che un personaggio come Sergio Ghia che sceglie di andare a Salò, che viene beccato con le armi, che viene denunciato appartenente a questa brigata nera di Bose, insomma in una situazione di quel genere lì è evidente che non se la cavava, quindi mi sembra assolutamente anche sotto questo aspetto obiettivo. Una delle sorprese del film è Ezio Greggio in versione drammatica, come ha intuito le potenzialità drammatiche di Greggio? Greggio sono otto anni che chiede di fare un film con noi, io non avevo mai il personaggio d'arto, finalmente questo film l'ho trovato, glielo ho scritto un po' su misura, perché questo Sergio Ghia assomiglia molto a Greggio, anche se Greggio non è fascista, che non ha questo background, però insomma è un piacione, è un estroverso, è uno capace anche di amicizia, è un po' un gasman del cinema di quegli anni e quindi la fortuna di trovare un attore totalmente al di fuori, fuori dal contesto, perché il contesto era tutt'altra cosa, che invece si è intonato assolutamente con innanzitutto il primo violino che era Silvio Orlandia, poi via via con Francesca, con Alba Rorvace e con tutti gli altri, dimostrando, poi non citiamo tanti altri attori, Paolo Graziosi, Annuso, è un cazzo, mi sembra fatto da attori tutti molto intonati, adesso in questo contesto così verosimile, con questi attori attorno, così veri, era difficile che in qualche modo, controllato da me, proprio marcato a uomo, era difficile dire che con un bel testo, insomma, si poteva sbagliare, no? Grazie, complimenti.